Dopo anni passati a confrontarmi col mondo della finanza, con la mia community, quindi con persone attive nel mondo della finanza, ho iniziato a notare alcune cose. In particolare, ho visto che noi italiani abbiamo alcuni pattern di comportamento, alcuni positivi, fortunatamente, quindi alcune scelte finanziarie sono corrette, tendenzialmente, altre invece molto, molto negative. Scelte che all'estero invece vengono fatte in modo corretto. E allora ho deciso di provare a riassumere tutta la mia esperienza in un solo video per dirvi una serie di errori che noi italiani purtroppo facciamo quotidianamente e che nell'arco di una vita intera possono arrivare a farci perdere, non sto scherzando, decine di migliaia di euro. Quindi, noi italiani siamo bravissimi col cibo, con la pizza, con l'arte, con la musica, tutta una serie di cose, ma sulla finanza cosa possiamo imparare? Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e questo video lo volevo fare da davvero tanto tempo. Prima di tutto ci tengo a dire una cosa, questo video non è frutto di un'analisi statistica, oggettiva, misurazioni, sondaggi, campioni e robe del genere. No, si basa semplicemente sulle osservazioni che io ho fatto confrontandomi con una serie di persone. E la mia fortuna è quella di confrontarmi con tante persone, quindi ho un campione abbastanza vasto. Però, io già ve lo dico, nel video ci saranno delle generalizzazioni e infatti non voglio che nessuno in qualche modo si senta preso in causa o offeso. In questo video dirò alcune cose che gli italiani fanno, ma non è assolutamente un attacco all'Italia, anche perché è il paese in cui vivo che mi dà da vivere soprattutto. Quindi, al contrario, l'obiettivo è proprio quello di cercare di migliorare un pochino la cultura finanziaria, che poi è anche il motivo per cui ho aperto questo canale. Come si fa generalmente a migliorare? Beh, uno dei modi è osservare chi fa meglio di noi. Secondo un'analisi, tra i vari paesi l'Italia, in quanto a educazione finanziaria, è penultima tra i paesi Ocse. E stiamo parlando di 20 paesi? Cioè, no? Quindi, come possiamo migliorare? Per rispondere, voglio prima di tutto partire da quei pochi punti di forza che abbiamo, perché basta con questa retorica che gli altri sono meglio di noi in tutto. No, abbiamo anche alcuni piccoli vantaggi, quindi è bene ribadirli, così almeno quelli non li perdiamo. Quindi un po' di ripatriottismo, eh? Dai, Roma! Iniziamo quindi con un paio di lodi. Lode numero uno, il risparmio. Gli italiani sono grandi risparmiatori, forse troppo, questo lo vedremo tra poco. In generale, però, il fatto di risparmiare ogni volta che si può ci dà potenzialmente dei benefici. Avere della liquidità pronta all'uso ci consente, tanto per cominciare, di rispondere a delle spese impreviste, urgenti, che non potevamo appunto prevedere e quindi di essere più sereni, di salvarci le chiappe, potremmo dire. E non sto parlando di eventi assolutamente tragici o catastrofi, ma anche cose molto più ordinarie. Un guasto alla macchina, si rompe la lavastoviglie, cose che comunque richiedono una liquidità immediata. Senza macchina non ci si può stare e lavare i piatti a mano è una sbatti. Noi italiani, generalmente, su questo tipo di spese siamo coperti, abbiamo della liquidità. Noi magari lo diamo per scontato, ma lo stesso non vale per altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Una ricerca abbastanza recente dice che mediamente 6 americani su 10 non avrebbero nemmeno 500 dollari per una spesa imprevista. 500 dollari in un paese che ha un costo della vita anche più alto del nostro, quindi il dato è ancora più grave. Inoltre aggiungo questa nota a margine, avere della liquidità, oltre a esserci utile in caso di situazioni negative, può esserci utile anche per approfittare di opportunità, quindi per magari, chi lo sa, investire in qualcosa. Su questo però non siamo bravissimi, adesso ci arriviamo. Però in generale, almeno su questo primo punto, il risparmio, bravi italiani, voto 10. Mi piace, voto 10. Lode numero 2, l'immobile. Ok, qui so che sto per sollevare un polverone, infatti noi italiani abbiamo un rapporto strano con l'immobile, quasi morboso. E lo devo dire, ho imparato conoscendo altri paesi che non siamo gli unici. Ad esempio, da quando ho imparato a conoscere la Cina, ho scoperto che noi italiani, in confronto, siamo dei fan dell'affitto. Seriamente, lì la casa è una questione vitale, non sto esagerando. In generale, però, il tasso di proprietà in Italia è altino, 72%, molto più alto di paesi anche a noi geograficamente vicini, come la Francia, 64%, o come la Germania, 51%. Perché ne sto parlando all'interno delle Lodi, quindi la sto evidenziando come una cosa positiva? Ovviamente, questo punto, se portato all'estremo, quindi esiste solo l'immobile, mettere dei soldi in qualsiasi cosa che non sia l'immobile è sbagliato, è un'estremizzazione, non va bene. In generale, però, noto alcune cose positive del fatto che gli italiani vogliano così tanto la casa. Punto numero 1, contribuisce a toglierci un pensiero. In generale, noi associamo la casa di proprietà a una maggior serenità, quindi possiamo dire che in questo senso diamo più priorità a aspetti non monetari. Io, infatti, sono convinto che i soldi siano un mezzo, non siano il fine, che non debbano essere accumulati tanto per, ma che, in ultima istanza, servano sempre a qualcosa. E uno dei possibili usi è, appunto, comprare la casa. E soprattutto, se questo affitto contribuisce a renderti la tua vita, a detta tua, migliore, ben venga. Il discorso del non compro casa, così questi stessi soldi li investo magari nel mercato azionario, vale quel che vale, nel senso ci sono molti dipende, non si può generalizzare. Ci ho già fatto un video su sta roba. Altro punto positivo, sicuramente ne ho già parlato tantissime volte, ho fatto un video sui falsi miti dell'immobile, ve lo lascio qui in alto, ma voglio ribadire questa cosa. L'acquisto della prima casa, della casa in cui viviamo, non è necessariamente un investimento. Anzi, il più delle volte non lo è. Però è anche vero che è difficile che sbagliamo completamente con questo acquisto, nel senso che, mal che vada, ci ritroviamo con in mano qualcosa. Questo va detto. Mentre invece lo stesso non vale per altri tipi di investimenti. Se io investo in investimenti finanziari, ad esempio, e non so cosa faccio, mal che vada, perdo il 100%. Questo con l'immobile non accade. Questo, secondo me, denota anche tanta umiltà da parte degli italiani, che sanno benissimo di non capirci niente di finanza, di borsa, e per questo motivo si orientano più a investimenti nell'immobile. Diciamo che è il minore dei mali, quindi ci sta. Bene, le lodi sono finite. Arriviamo ai tasti dolenti. Nota numero uno. Il terrore dei debiti. Noi italiani, fatta eccezione per il mutuo, non si capisce bene perché, siamo terrorizzati dall'avere dei debiti, magari anche un po' importanti. Finché infatti si tratta del telefono a rate, beh, allora nessun problema, 30-50 euro al mese, certo, tieni. L'auto a rate, beh, anche in questo caso no problem. Per il resto, basta. Il debito è male. In realtà no, ci sono altre situazioni, anzi ben altre situazioni, in cui ricorrere al debito può essere una scelta sensata. Indebitarsi per pagare un telefono, una vacanza, un viaggio, l'auto costosa. Quelli sì che sono usi sbagliati del debito, perché stiamo acquistando qualcosa che consumeremo, che non ci rimarrà. Quindi di fatto ci stiamo sobbarcando una spesa aggiuntiva, quella degli interessi, per qualcosa che alla fine tra un po' di tempo svanirà. Invece ci sono certi debiti che ha senso fare, perché sono delle spese utili, produttive, in qualche modo, che ci miglioreranno, che ci cambieranno la vita. La casa, per molti, anche qui grossi dipende, ma non voglio entrare nel dettaglio adesso, è un uso generalmente sensato del debito. Volete altri esempi? Lo studio. Ho visto tantissima gente che voleva iscriversi magari in università prestigiose, private, anche all'estero, costose, chiaramente, rinunciare per il prezzo. Però poi quando si trattava di comprarsi l'auto, allora lì nessun problema. Mi faccio il finanziamento, mi prendo le rate e ogni mese pago. Perché si fa questo ragionamento con l'auto, ma non con lo studio? Con magari un bel master, che ti può dare sicuramente un incremento alla tua carriera? Non si capisce. Altri esempi potrebbero essere indebitarsi per avviare una propria attività. In questo caso, certo che è più rischioso, ma parliamo, se qualcuno vuole avviare un'attività, comunque di una persona che ha una propensione al rischio abbastanza altina. Però, se si tratta di spendere 2000€ per una fotocamera molto costosa, perché voglio fare il fotografo, non lo so, cose del genere. No, no, sia mai. Però, dalla vastoviglia, tasso zero, quella va bene. Insomma, concludo dicendo, il debito va bene, nelle situazioni giuste. Nota numero 2. Lo stipendio. Ma che diavolo di problemi abbiamo noi italiani con lo stipendio? Non se ne può parlare. Seriamente, provateci, provate a chiedere a vostri amici o parenti di intavolare una discussione sullo stipendio. Magari chiedere loro quanto guadagnano, dite voi quanto guadagnate, iniziate a confrontarvi su questo aspetto. La loro reazione sarà questo sguardo, un po' così disgustato, barra anche un po' imbarazzato. Seriamente, provateci, è divertente. Intendiamoci, lo stipendio, così come tante altre informazioni, è un'informazione personale, che non è obbligatorio dire. Però non ci vedo neanche nulla di male nel farlo. Su questo argomento ha fatto un bel video il mio amico Marcello Ascani, che vi invito a guardare, ve lo lascio qui in alto. E lui spiega molto meglio di me, anche attraverso delle interviste che ha fatto per strada, che ci sono dei possibili vantaggi in una società dove c'è un po' più di apertura su questo tema. E in generale, la trasparenza aiuta soprattutto gli stipendiati. In molti paesi, infatti, parlare del proprio stipendio è assolutamente normale. Esistono decine di siti, ad esempio all'estero, molto gettonati, dove le persone, anche non in anonimo, postano il proprio stipendio, in modo tale che si possa creare una sorta di database e si sappia quanto una professione o quanto un'azienda paga. Io, ad esempio, riguardo alla mia situazione finanziaria, quando mi fanno delle domande su quanto guadagno, non ho nessun tipo di problema a rispondere, anche perché che cosa avrei da nascondere? Al contrario, da queste discussioni spesso nascono fuori anche dei ragionamenti molto costruttivi, utili, che aiutano tutti. Potreste, ad esempio, scoprire che per la vostra professionalità, per le vostre competenze, siete sottopagati e che tutte le altre aziende, tranne la vostra, pagano di più. Quindi potrebbe essere davvero utile. Nota numero tre, stiamo sullo stipendio. Qui, altra cosa veramente delicata, in Italia non si chiede l'aumento. Ve lo giuro, in venticinque anni non ho mai conosciuto nessuno che abbia chiesto un aumento. Mai. Di solito, da queste persone, quando io, ad esempio, chiedo ma come mai non lo chiedi, la risposta è ma non si chiede l'aumento. No, ragazzi, si chiede come. E attenzione, chiedere non significa ottenere, significa chiedere. Normalmente, invece, si pensa che se la risposta è no, allora oddio, tragedia, cosa faccio? Ma devo licenziarmi? Ma devo andarmene? Ma magari mi licenziano perché l'ho chiesto? No! Da dove vengono tutti questi ragionamenti? Sono semplicemente assurdi. Ma soprattutto sfatiamo un mito. Non è che si può chiedere l'aumento a caso, tanto per... Ehi capo, guarda che lavoro qui da vent'anni. Che ne dici di aumentarmi un po' lo stipendio? Ehm, no. Un aumento significa che noi vogliamo più soldi. E se vogliamo più soldi, dobbiamo dare qualcosa in più. Non basta chiedere roba a caso. Quindi dobbiamo chiederci, che cosa possiamo fare noi in più per l'azienda? Faccio un esempio pratico, ma non ne posso fare 12.000. Poi dovete pensare questa cosa sul vostro lavoro. Diciamo che sono un receptionist, quindi mi occupo di fare accoglienza alla clientela, di fare anche un pochino di segreteria, quindi prendere appuntamenti, eccetera. Solite cose. A lavoro, però, per prendere gli appuntamenti, usiamo un software veramente obsoleto, vecchio, non funziona, dà un sacco di problemi. E inoltre, frequentemente, ci sono anche dei clienti che arrivano, parlano inglese, nessuno in azienda parla inglese. E quindi si fa molta fatica in queste situazioni e spesso non si riesce a convincere la persona a acquistare i nostri prodotti o i servizi. Io in questo caso potrei andare dal mio capo e dirgli Ciao, nome del capo, vorrei parlarti di un paio di cose. Tanto per cominciare ho trovato un modo di gestire meglio gli appuntamenti, con un altro programma. Tutti in azienda avrebbero sicuramente più facilità, non ci sarebbero problemi e faremmo tutti più in fretta. Inoltre, sto anche iniziando a studiare l'inglese, così anche con i clienti sarò molto più in grado di comunicare. Sono sicuro che questi cambiamenti potrebbero portare grandi vantaggi alla nostra azienda e per questo motivo vorrei rivedere la mia retribuzione e valutare nel caso un aumento. Questa è una proposta e ve lo dico sinceramente, è una proposta che qualsiasi imprenditore serio valuterebbe. Non solo perché effettivamente state chiedendo di più, ma state anche dando qualche disponibilità in più, ma perché vi state dimostrando una persona che ha a cuore l'azienda, che ci tiene, che vuole fare il proprio lavoro fatto bene. Poi, oh, se la risposta è no, pace. Più avanti, poi, se voi effettivamente siete determinati a voler guadagnare di più, inizierete a guardarvi intorno. Magari con la vostra professionalità sapete che valete di più, appunto, vedi, punto precedente, e allora potete guardarvi intorno, ma anche lì non c'è nessun tipo di pressione. Nel caso di un rifiuto, voi non vi preoccupate, state sereni e andate avanti e valutate, in base a cosa conta di più per voi, le scelte da fare. Nota numero 4, questa per chi segue il canale da un po' la sa parecchio. Investimenti a basso rischio. Noi italiani amiamo gli investimenti apparentemente sicuri, che in realtà poi si rivelano solamente dei grandissimi bonifici alle banche, alle assicurazioni, alle poste e cose del genere. Buoni postali, polizze vita, altre polizze immondizie, affondi assurdi. In molti di questi casi gli italiani non si rendono conto che sì, stanno rischiando pochissimo perché sono prodotti con 12.000 garanzie, ma non avranno mai la possibilità di avere dei rendimenti. L'equazione rischio uguale rendimento dovrebbe essere chiara a chiunque, per cui rischio tanto, allora ho l'opportunità di ottenere tanto. Rischio poco? Potrò ottenere solamente poco. Rischio zero? Otterrò solamente zero. Anzi, questo è il passaggio, otterrò meno di zero, perché ci sono tutta una serie di costi da sostenere, che in certi casi sono anche abbastanza altini. Non smetterò mai di ripetere questa cosa. Se qualcuno ha una tolleranza al rischio bassissima, del tipo che vedere il proprio portafoglio di investimenti fluttuare anche solo del 2%, diventa uno dei più grandi drammi esistenziali, dovrebbe fare due cose. Uno, rilassarsi un attimo. Cioè, ragazzi, il rischio è normale. Se si vuole ottenere qualcosa, l'ho appena detto, bisogna necessariamente rischiare. La propensione al rischio, ad esempio, in altri paesi è molto più alta. Si vuole rischiare molto di più. Ovviamente va fatto consapevolmente, non è che si rischia a caso. Però in altri paesi, ad esempio, c'è molta più spinta all'imprenditorialità. L'impresa è un rischio, ovviamente va ricordato. Quindi noi italiani dovremmo, tanto per cominciare, imparare a vedere il rischio, non solamente come qualcosa di negativo, associato a robe brutte, ma anche come un'opportunità. Punto numero due. Ci avete riflettuto, avete fatto tutti questi ragionamenti, ma comunque volete rischiare zero? È brutto da dire, soprattutto da una persona come me. Non investite. Comprare prodotti di banca che vi dicono che sono poco rischiosi non ha nessun senso. Finite solamente per fare un regalo alle banche. Questo perché, se anche quei prodotti vi faranno guadagnare pochissimo, perché state rischiando pochissimo, tutto il guadagno andrà in costi. Quindi teneteli sul conto. Non so che è brutto che io vi dica una roba del genere, non vorrei dirvelo, però se qualcuno ha una soglia del rischio bassa così, meglio non fare niente. Nota numero cinque. Anche qui male, 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 male. Cambiare lavoro. Per molti l'idea di cambiare lavoro è qualcosa che non esiste. Le uniche situazioni in cui alcuni cambiano lavoro sono perché o mi licenziano, per X motivi, oppure perché l'azienda chiude, quindi è fallita e fisicamente non posso più andare a lavoro. O anche caso limite, magari sono obbligato per qualche motivo a trasferirmi da un'altra parte, quindi dovrò trovare un lavoro in loco in altre situazioni geografiche. Per il resto, no, mai. È inconcepibile. E qui mi viene in mente la battuta di Zalone, io voglio fare il posto fisso, che è bellissima e riassume molto bene l'idea italiana. Anche qui ci tengo a dire questa cosa. Cambiare lavoro dovrebbe essere normale. E io intendo sia come azienda, quindi stessa mansione ma altrove, anche però come professione. In molti paesi, prendo gli Stati Uniti ad esempio, cambiare lavoro non solo è normale, ma a volte è anche necessario. Alcune persone scelgono infatti di fare esperienza in alcune aziende, che quindi di fatto sono delle aziende trampolino, per poi con quell'esperienza sul curriculum andare a bussare da altre aziende, magari quella in cui veramente vogliamo lavorare, e dire, ehi guarda questo è il mio curriculum, ho lavorato di qua, di là, di là, di su, di giù, destra, sinistra. Hai visto che bel curriculum? Quindi assumimi nella tua azienda. L'idea invece italiana è che dobbiamo trovarci un lavoro, il primo magari che capita, e tenercelo. Tenercelo per la vita, tenercelo stretto perché il lavoro è prezioso. Ragionando però in questo modo, tanto per cominciare, nell'eventualità, e potrebbe succedere, in cui perdiamo il lavoro, avremo un curriculum molto scarno, avremo avuto un'esperienza molto ridotta, chi lo sa, in una, due aziende e basta, e questo ci renderà, oltre che molto meno flessibili a livello mentale, anche meno appetibili come candidati. E punto numero due, probabilmente la nostra retribuzione rimarrà stabile negli anni, con dei piccolissimi aumenti di qua e di là. Ovviamente, non c'è neanche bisogno di dirlo, chi si trova male a lavoro, chi sente di essere sottopagato dovrebbe cambiare lavoro immediatamente, guardarsi altrove. Tanto mica devi lasciare il lavoro oggi e poi, senza lavoro, star lì e aspettare che arrivi il nuovo. No, tu puoi anche tranquillamente cercarne uno, quando lo trovi dai il preavviso, lasci il vecchio, e quando ti scade il preavviso vai a lavorarne il nuovo. Ma ora parlo anche di quei pochi che sono effettivamente soddisfatti del proprio lavoro. Valutate comunque l'idea di guardarvi altrove. Il cambiamento non è solo qualcosa che ci fa scappare da una situazione che non ci piace, ma può anche essere qualcosa che ci fa andare verso qualcosa che ci piace di più. Pensate ad un animale in cattività allo zoo, però questa situazione è assurda, con le sbarre aperte, con la gabbia aperta. Ogni giorno lui si vede arrivare il cibo, l'acqua, tutte le cure, tutta una serie di comfort. Ecco che però, se decide di rimanere lì, perché fa comodo, non scoprirà mai che al di fuori di quella gabbia c'è un mondo intero. Quello che bisognerebbe fare sempre è cercare di osservare tutto. Questo perché solo una volta che abbiamo tutte le opzioni siamo in grado di scegliere quella più adatta a noi. Altrimenti se ci limitiamo ad accettare la prima o la seconda cosa che ci capita, è un autolimite. Quindi so che è difficile, perché il cambiamento è sempre qualcosa di difficile, però cercate di vederlo come qualcosa di positivo, che potrebbe portarvi a situazioni migliori. Ragazzi, queste erano alcune cose che negli anni ho notato. Voi però ditemi, da italiani, vedete i vostri concittadini fare alcuni errori, alcune cose specifiche? Nel caso ditemelo qua sotto nei commenti, perché chi lo sa potrebbe arrivare anche una parte 2. Per il resto niente ragazzi, viva l'Italia, viva la pizza, viva i maneskin. Ciao!